E poi c'è Paredes che è rimasto coinvolto in negativo in questa via di stagione, le statistiche parlano chiaro, il suo apporto alla squadra è insufficiente, un vero enigma in casa bianconera. Andata in scena nel centrocampo bianconero dopo la partenza di Pjanic. Finora non è stato un successo, con l'argentino risucchiato nel vortice negativo di una squadra in palese difficoltà. Paredes ha fatto cose buone come l'assist per Milik contro il Benfica e cose meno buone, vedi il contrasto poco convinto che dai là all'azione del gol vittoria dei portoghesi e il Mani dà rigore contro la Fiorentina, rigore poi parato da Perin su tiro di Jovic. Ma il problema è che Paredes, pur deludendo, è uno dei migliori bianconeri in diverse statistiche. Per passaggi chiave, quelli cioè che superano la linea di pressione avversaria dando così verticalità alla squadra, con sei a partita è primo nella Juventus e secondo in Serie A dietro a Mario Rui. E' poi quinto tra i bianconeri e 134esimo in Serie A per tiri effettuati anche se spesso poco precisi. Bene anche il dato delle palle perse. Paredes tocca molti palloni, eppure con 3,3 a partita è solo undicesimo nella Juventus e 225esimo in campionato. In sostanza, difficilmente perde palla. Il contributo dell'argentino è però insufficiente a livello di dribbling, è solo dodicesimo nella Juve e 277esimo in Serie A. E soprattutto nella presenza in fase difensiva, con due palloni recuperati a partita, è soltanto quattordicesimo tra i bianconeri e 228esimo tra tutti i giocatori del campionato. Peggio ancora il dato dei duelli vinti, in cui Paredes è quindicesimo nella Juve e sprofonda addirittura la posizione 304 in Serie A. Insomma, dall'ex Paris Saint-Germain...